Music Lab in suoneria organizza corsi di formazione per tecnico del suono in collaborazione con gli enti accreditati dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Piemonte, ENAIP e Immaginazione Lavoro. I corsi sviluppati per la direttiva Mercato del Lavoro sono gratuiti e si rivolgono a disoccupati diplomati di tutta Italia e prevedono un periodo di stagi in aziende del settore. Non mancano corsi privati personalizzati e corsi per DJ. Gli spazi dedicati alla formazione prevedono tre aule multimediali. La prima aula si avvale di 18 postazioni PC dedicate all'apprendimento dei software per la produzione audio. La seconda è dedicata ai seminari e workshop ed è attrezzata con una postazione analogico-digitale con mixer e outboard a disposizione degli allievi per le esercitazioni pratiche. La terza è un'aula dedicata ai corsi di certificazione software ed è allestita con sei iMac di ultima generazione. Music Lab è training center certificato Avid, Ableton, Steinberg e Apple, grazie a Espero, per l'insegnamento di Pro Tools, Live, Cubase e Logic. È fornitore RAI per corsi avanzati di Pro Tools. E grazie alla collaborazione con Expertise Garden è in grado di sviluppare corsi di software online per tutto il mondo. Tra i vantaggi dell'essere collocati all'interno di un contesto polifunzionale come la suoneria emerge quello di avere a disposizione l'utilizzo dell'Auditorium Combo per lezioni ed esercitazioni pratiche direttamente sul campo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.